Ottimismo e preoccupazione, certezze e dubbi. Il bicchiere inizia a riempirsi e il successo sul campo basso ha consegnato al Bari solo note positive. I biancorossi, così in settimana, hanno preparato il derby contro il Foggia in condizioni pressoché ideali, con il Catanzaro scivolato nuovamente a meno 6. Ora frattagli e compagni dovranno necessariamente ritrovare la giusta continuità dopo un inizio di 2022 costantemente vissuto sulle montagne russe. Servirà il Bari pratico e solido visto nella prima parte di campionato, anche per evitare di esasperare una piazza che ha cominciato a familiarizzare con i fantasmi del passato. Troppe le occasioni sprecate, Mignani con un botta, in più spera di avere tra le mani la formula giusta per risolvere l'enigma Foggia. Una squadra camaleontica, quella rossonira, che viaggia a corrente alternata come dimostra il passo falso contro la Turris nell'ultimo turno, ma capace di mettere in difficoltà chiunque. Se ci aggiungiamo che il derby resta partita a sé e nell'inferno dello Zaccheria la temperatura si alzerà vertiginosamente, la strada per i biancorossi è tutt'altro che spianata. Sabato sera dunque sarà sfida totale, non solo in campo ma anche in panchina, dove si misureranno due stili e due filosofie di gioco differenti. Foggia-Bari sarà anche Zeman contro Mignani, due tecnici diversi dal punto di vista caratteriale che si scontreranno per la seconda volta dopo il pareggio dell'andata. Mentalità e ambizione sono forse gli unici punti di contatto fra gli attuali tecnici di Foggia e Bari. Per il resto Zeman e Mignani rappresentano due universi paralleli, talvolta addirittura contrapposti.